Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita dall'ONU nel 1992. Nel 2006 la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità ha sottolineato l'esigenza di difendere e salvaguardare, anche attraverso la ricorrenza del 3 dicembre, la qualità della vita delle persone con disabilità rispetto ai principi di ugualianza e partecipazione alla sfera politica, sociale, economica e culturale della società. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito intende celebrare questa giornata ribadendo tali principi al fine di garantire pari opportunità senza di discriminazioni e promuovendo la consapevolezza in merito alle diverse forme di disabilità. Un esempio viene da Taranto. Nei giorni scorsi a live con Nicola Pastore, il presidente dell'Associazione Persone Down di Taranto, ha ribadito i percorsi portati avanti per un'azione di forte inclusività e consapevolezza. E proprio in questo senso va la notizia diffusa oggi. Nino Leone, in un comunicato alla stampa, informa con entusiasmo che Martina ha iniziato il suo percorso lavorativo presso l'OVS nel centro commerciale Porte dell'Oionio, un risultato che preme il grande lavoro per l'inclusività e la considerazione sociale.